Sono cinque le persone denunciate a piede libero dai carabinieri del comando provinciale di Verbagna nell'ultimo fine settimana, due invece segnalati in prefettura per uso di sostanze stupefacenti. Non era la prima volta che un uomo, un 51enne, noto alle forze dell'ordine, vadeva dai domiciliari cui era sottoposto da diversi mesi per scontare una condanna per furto. Da quando gli è stata concesso di scontare la pena a casa invece che in carcere, l'uomo è stato più volte denunciato e arrestato per evasione e resistenza pubblico ufficiale. Qualche giorno fa, poco prima delle 19, durante un controllo di routine, i carabinieri non l'hanno trovato a casa e sono andati a cercarlo dalla compagna. Lo hanno sorpreso proprio mentre rientrava. Nell'ossolo invece un uomo è stato sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolico superiore a 1,3 grammi per litro. Per lui denuncia ritiro di patente. I carabinieri della compagna di Verbagna hanno denunciato un cittadino straniero residente a Malta che, fermato per un controllo alla circolazione stradale, ha esibito una patente di guida maltese. I militari non si sono lasciati ingannare da quel documento e hanno approfondito il controllo verificando che era falso e l'uomo è stato quindi denunciato. A bordo dell'auto c'erano anche 12,9 grammi di marijuana. Credeva invece di poter agire nell'anonimato un verbanese, classe 1965 senza precedenti, che alla fine del mese di ottobre a Cannobbio, senza un apparente motivo, ha graffiato la portiera di una Tesla con targa svizzera. L'auto, di proprietà di un italiano residente oltre confine, era regolarmente parcheggiata. Al suo ritorno il proprietario si è accorto del danno e ha sporto denuncia contro i gnoti alla stazione Carabinieri di Cannobbio. Il sistema di sicurezza dell'auto, non appena percepito un movimento delle vicinanze, ha però attivato i sistemi di videosorveglianza. E così, dalle immagini, i carabinieri hanno potuto vedere l'uomo graffiare l'auto e allontanarsi. E non solo, è stata ripresa infatti anche la targa della sua macchina, risultato intestata alla sorella, è stato così identificato. Il danno stimato è di circa 3.500 euro.